Buonasera, benvenuti all'appuntamento con il TGU di News Ultimora. Salvini esclude interventi militari in Libia dove continuano i scontri violenti tra truppe ribelli e forze governative. La guerriglia è arrivata a 6 km da Tripoli, 47 morti e 129 feriti in 8 giorni, questo è il bilancio. Salvini dunque esclude però qualsiasi intervento militare. L'ex premier Matteo Renzi conferma di non voler partecipare alle primarie per l'elezione del prossimo segretario del Partito Democratico e rimane abbottonato sulla scelta del candidato a cui darà il suo appoggio. Oltre 600 migranti che tentavano di raggiungere le coste spagnole sono stati salvati in mare nel Mediterraneo nella sola giornata di oggi dalla Guardia Costiera Spagnola, secondo quanto riferito da Madrid. Sono 145 le parti offese tra familiari delle vittime e feriti nell'ambito del futuro processo sul crollo del Ponte Morandi a Genova. L'elenco definitivo è stato consegnato dalla squadra mobile. Si ferma ai quarti di finale il cammino dell'Udinese al trofeo Rocco. L'11 di De Biagio ha ceduto a Lazio, sono soltanto ai calci di rigore e sempre ai calci di rigore la rappresentativa del fluo di Venezia Giulia ha invece abbattuto la Juventus accedendo alla semifinale proprio contro la Lazio. Buonasera, queste dunque le notizie di ultima ora. Cominciamo subito con la crisi in Libia. Libia nel caos ormai da giorni con i ribelli che avanzano. Si combatte a 6 km da Tripoli, detenuti in fuga dalle carceri. Il Premier chiede aiuto a misurata. L'Italia intanto esclude un intervento con forze speciali. Salvini attacca la Francia per la situazione nel paese. La Libia non è più un porto sicuro? Chiedete a Parigi. Questa è una delle dichiarazioni rilasciate dal Vice Premier. Gli italiani a Tripoli per ora non si sentono in pericolo, ma c'è il rischio di una pericolosa escalation. L'ex Premier Matteo Renzi non parteciperà alle primarie. L'ho affermato questa sera in un'intervista a Rete4, ho già dato due volte alla battaglia per la segheteria. Non ci sarò, ma questo non significa che resterò a guardare, votare Zingaretti. Ci sarà sicuramente un altro candidato e fa capire dunque di non essere sicuro dell'appoggio che darà a Zingaretti. Zingaretti alla festa dell'unità ha parlato di ingerenze, soprattutto via web, per quanto riguarda la sua candidatura che starebbero creando delle difficoltà. Parliamo adesso del crollo del Ponte Morandi e sono 145 le parti offese tra familiari delle vittime e feriti nell'ambito del processo che si terrà in futuro sul disastro di Genova. L'elenco è stato consegnato alla squadra mobile, ma potrebbe aumentare quando inizierà il procedimento se dovessero essere ammessi anche i danneggiati e gli sfollati. Si allungano invece i tempi per l'incidente probatorio che potrebbe partire anche in corso di demolizione dei resti della struttura. Parliamo adesso di sport con calci di rigore Amari per l'Udinese mentre Dolci per la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia. Vediamo la foto dei ragazzi in spogliatoio appena battuta la Juventus ai calci di rigore 6 a 5 e dunque la rappresentativa va avanti, affronterà domani a Remanzacco alle 19.30 la Lazio, proprio la squadra che ha fatto fuori l'Udinese sempre ai calci di rigore. Era presente per noi a Lignano Sabbiadoro dove si è giocata la gara dei bianconieri Alice Matteloni che ha intervistato dopo la partita il mister Matteo De Biaggio ed uno dei ragazzi della squadra. Sentiamo. Mister Matteo De Biaggio una partita decisamente avvincente, una partita in cui una Lazio molto aggressiva nel primo tempo ma una ripresa nel secondo tempo da parte dell'Udinese ci sono state tante occasioni da gol, una partita terminata ai rigori e purtroppo è andata peggio per l'Udinese. Buonasera a tutti, sì sicuramente una partita come detto tu avvincente perché le squadre si sono contese con occasioni gol, hanno provato entrambi a fare la partita e soprattutto si sono viste anche dei bei spunti individuali che questo sicuramente fa crescere il mondo del calcio giovanile. Che dire, rimane ramarico perché alla fine anche noi qualcosina alla fine su un calcio d'angolo, su due o tre belle ripartenze si poteva magari chiudere meglio e magari raccogliere qualcosina in più. Non è andato e siamo andati a questa lotteria dei rigori che insomma non si può rimporre niente ai ragazzi perché hanno fatto un torneo importantissimo, soprattutto con queste due ultime gare, in particolar modo ieri insomma abbiamo battuto il Milan ma al di là di aver battuto il Milan proprio la prestazione offerta ieri e oggi mi soddisfano molto, non aver preso gol perché è un dato importante e aver comunque cercato di fare la partita e creato altrettante palle gol. Quindi la strada come dicevo adesso sicuramente per loro può essere solo che in miglioramento. Cosa dice un tecnico oltre chiaramente a queste parole a un giocatore che comunque ha dato tutto in campo perché in questo caso si è visto un ordinese veramente sul pezzo? Ma sicuramente il dispiacere dell'errore sul momento rimane del ragazzo perché è chiaro ci deve essere ma quello che cerco di far capire a loro è sempre il bicchiere mezzo pieno nel senso che con questo impegno, con questa voglia, con questa determinazione possono solo che limare se vogliamo questi piccoli errori affinché dopo ci teniamo noi le nostre vittorie, ci teniamo noi le nostre soddisfazioni e magari condividiamo con tutta la squadra un successo. E ora sono con Agnoletti, un ragazzo che è stato protagonista di diverse azioni durante questa partita, purtroppo un risultato che non è quello sperato ma una partita che è stata molto avvincente. Sì, secondo me è stata una partita molto costruttiva, ci è servita molto per crescere, la Lazio la conoscevamo già come squadra, ce l'avevamo anche l'anno scorso in girone, l'abbiamo avuta due anni, quest'anno li abbiamo rincontrati e secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, soprattutto dopo quella di ieri con il Milan, continuando così bene oggi abbiamo fatto vedere che comunque ci siamo e questo campionato potremo farlo tutti da protagonisti. Andiamo avanti, adesso passiamo alle notizie che abbiamo trattato nei nostri telegiornali di giornata alle 13.30 e alle 19.00. Cominciamo subito con il caso della coppia saccilese esterminata in Macedonia, sono tre i fermati, la coppia più la figlia naturalmente, quindi il triplice omicidio. La figlia avrebbe confessato, il Ministero dell'Interno Macedonia ha confermato l'aver fermato tre persone a incastrare la giovane, ci sarebbero alcune foto che la ritraggono nel paese nelle stesse ore della tragedia. Vediamo il servizio. Appare ad una svolta l'indagine sul triplice omicidio che ha coinvolto la famiglia Pocesta, nativa della Macedonia ma residente da tanti anni a Sacile. Da quanto emerso dalla stampa del paese balcanico, anche dal Ministero dell'Interno che cita fonti della locale polizia, sono state fermate tre persone. La figlia maggiorenne della coppia, Blerta Pocesta, di 25 anni, che secondo l'accusa avrebbe sparato, e due complici identificati grazie all'esame del DNA effettuato su campioni prelevati sul luogo del delitto. A confermare questa avversione anche Amira Findo, nipote della coppia trucidata, che a Lanza ha spiegato, da quello che risulta alla nostra famiglia, la figlia maggiore ha confessato e si trova in galera. Il parente, che abita a Cordignano, in provincia di Treviso, ha anche aggiunto che a carico della cugina ci sarebbero numerose prove. Mi hanno riferito ai parenti che Blerta piangeva disperata, nessuno avrebbe mai pensato a una cosa del genere, un dramma enorme. Diversi quotidiani in lingua macedone specificano che Blerta, subito dopo il delitto, sarebbe tornata rapidamente in Italia con l'altra sorella, per mascherare il suo gesto, e poi si sarebbe recata ad Ebar, dove successivamente sarebbe stata arrestata. Con lei, proseguono i media locali, sarebbe finiti in manette altri due uomini macedoni, zio e nipote di 61 e 31 anni, che le avrebbero ceduto l'arma e le avrebbero dato un passaggio al confine. Noi non abbiamo alcuna ufficialità dell'arresto delle persone di cui si sta parlando, né della loro eventuale identità, ha frenato il procuratore di Pordenone, Raffaele Tito. Nemmeno l'Interpol ha ricevuto note dalle autorità straniere che si stanno occupando dell'inchiesta. Devo tuttavia ammettere, ha aggiunto il procuratore, che in questi tre giorni la procura porrenonese, grazie alla squadra mobile e all'intera questura cittadina, ha fornito elementi di grande importanza per l'indagine. Le abbiamo acquisiti e le abbiamo trasferiti, con la massima urgenza, ai competenti organi macedoni. Incidente sulla quattro due militari dell'esercito di stanza al reggimento Friuli di Casarsa, della Delizia, rimangono quindi uccisi. Un altro è rimasto invece ferito. Vediamo il servizio e le pillole di cronaca di David Zanirato. Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto in tarda mattinata lungo l'autostrada A4, poco dopo l'entrata di Meolo Roncade in provincia di Venezia, in direzione Trieste. Un furgone e un'auto si sono scontrati, il furgone si è capovolto adagiandosi contro il guardrail. Le due vittime sono militari dell'esercito, così come uno dei feriti. Si tratta di Valerio Canzio, 39 anni, di Messina, e Rocco Rilievi, 40 anni, originario di Bari. I due, si apprende dal Ministero della Difesa, erano in servizio presso il 66esimo reggimento Fanteria Aeromobile Friuli, così come il loro commilitone, rimasto gravemente ferito e trasportato in ambulanza a Treviso. La quarta persona coinvolta, un uomo di 72 anni, residente sempre nella marca trevigiana. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, con diverse ambulanze, l'elicottero, la polizia stradale e i vigili del fuoco. L'autostrada è rimasta chiusa tra Meolo Roncade e Sandona di Piave e è stata riaperta solo dopo le ore 13. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito, Salvatore Farina, ha presa la triste notizia, ha espresso a nome dei soldati dell'esercito italiano e suo personale i sentimenti di stretta vicinanza e cordoglio ai familiari delle vittime. 29 amministratori comunali provenienti dal Friuli Venezia Giura, dal Veneto e dal Trentino Alto Adige hanno cominciato a partecipare alla Summer School proposta dall'Anci per aiutare chi si occupa di gestire i nostri comuni. La sede dei corsi è a Ravascletto e sentiamo il servizio di Luciana e Delfonso. I sindaci ritornano a scuola. Dopo la pausa estiva i primi cittadini e gli amministratori locali hanno deciso di aderire alla Summer School organizzata da Anci FWG, AICRE FWG, OX e Informest. Al centro della settimana di lezione, che si sta svolgendo a Zovello di Ravascletto, il tema dello sviluppo del territorio, che è fondamentale per il futuro delle comunità locali in un mondo che cambia e si globalizza sempre di più. Inoltre non va dimenticato che gli amministratori locali sono chiamati a valorizzare tutte le potenzialità del territorio comunale in modo innovativo, collaborativo, integrato e nell'ottica dell'area vasta. In effetti si fa gli amministratori ma non si è sempre preparati ad affrontare questo tipo di attività e quindi immagino che riuscirò ad avere qui delle metodologie ma anche un confronto con gli altri amministratori e anche le persone diciamo dei settori che mi possono fornire il supporto tecnico ma in realtà anche di comunicazione. Ritengo questa una straordinaria opportunità che è concessa agli amministratori locali di acquisire un bagaglio in materia di strategia e sviluppo territoriale, un bagaglio e conoscenze che ci permette di attuare strategie politiche. Da Padova fino a Ravascletto perché il corso è particolarmente interessante e dà la possibilità a me dopo un anno di lavoro sul campo di alzare un po' lo sguardo oltre alla gestione quotidiana dei servizi per provare a dotare la mia città di strumenti strategici di sviluppo territoriale in condivisione anche con amministrazioni e amministratori del nostro territorio. A termine della Summer School gli amministratori locali apprenderanno approcci, modelli e strumenti funzionali per saper analizzare un contesto territoriale, definire una strategia di sviluppo, declinare progetti integrati e creare reti comunali e sovracomunali, nazionali e sovranazionali, coerenti ed efficaci. Parlamentari e fiullani uniti per recuperare i fondi per i progetti delle periferie bloccati nelle scorse settimane in Parlamento. Questo pomeriggio in Municipio a Udine faccia a faccia con il Sindaco Fontanini e il suo vice, la speranza di recuperare al più presto le risorse. Sentiamo l'intervista Fontanini, Tondo e Serracchiani. Ringrazio i parlamentari perché sono oggi venuti qui a sentire l'appello del Comune, l'amministrazione comunale che chiede che questi fondi siano dati al Comune per far partire queste opere che sono fondamentali. Stiamo parlando della zona di via Cividale, si tratta di tante avviabilità e poi del recupero dell'ex caserma Osoppo. Sono fondi sommati tra pubblico e privato, arrivano a 30 milioni di euro, quindi un volano economico significativo anche per la città. Io spero che il Parlamento metta a posto quanto è accaduto al Senato, quindi si possa ripristinare a favore dei comuni che hanno presentato nei termini tutta la progettazione, il caso del Comune di Udine, perché tutti i progetti sono stati realizzati, presentati entro l'8 di agosto e quindi per noi sarebbe veramente un fermo un po' duro da supportare. Mi sono già espresso in questo senso e apprezzo il fatto che il Sindaco Fontanini abbia fatto, convocato oggi una riunione con i parlamentari per discutere questo problema. Io credo che se alla Camera l'emendamento, la situazione non verrà cambiata, noi presenteremo io per quanto mi riguarda lo farò, un emendamento che proponga al Governo di ristabilire questo finanziamento sul quale sono già state spese delle risorse di progettazione e di programmazione. Quindi mi auguro che ci sia una forza di parlamentari variamente dispiegata, usiamo così la maggioranza della posizione, perché quando si tratta di fare interesse alla comunità non bisogna guardare le divisioni. Siamo tutti convinti che quei fondi debbano tornare a Udine, a tutta la Regione e sono importanti per i nostri sindaci e per le opere da fare sul territorio. Complessivamente per Udine parliamo di 18 milioni, servono per il recupero della caserma Osoppo ma anche di tutta la viabilità della zona di via Cividale, quindi sono estremamente importanti anche per riqualificare tutta quell'area e ovviamente noi faremo la nostra parte, sebbene al Senato purtroppo anche il Partito Democratico abbia votato favorevolmente all'emendamento che devo dire era scritto in modo abbastanza involuto, ora ci siamo resi conto dell'errore, quindi alla Camera abbiamo già depositato un emendamento per ripristinare i fondi ai comuni. L'andamento dell'artigianato fa discutere se per Ires nell'ultimo decennio l'artigianato regionale ha registrato una forte riduzione della propria base produttiva passando da quasi 31.500 aziende attive nel 2006 a 28.260 nel secondo trimestre del 2018 con una variazione negativa pari al 10% circa. La CNA del capoluogo friulano vede la situazione meno drammatica. Abbiamo sentito dal proposito Luca Tropina, presidente dell'area udinese di CNA. I dati della provincia di Udine per CNA si discostano fra un anno e l'altro, quindi dell'anno scorso a questo, di un 3,3% che è sintomatico a livello nazionale ed è accumunato anche alle altre associazioni di categorie, quindi a aziende regolarmente iscritte a un'azione di categoria di aziende similari, quindi piccola, media impresa e artigianato. Tutto sommato in un periodo di tempo di 5 anni, quindi l'ultimo lustro, fondamentalmente i dati delle presenze e degli iscritti sono tutto sommato costanti e riguardano il fatto anche che comunque le aziende iscritte in una piccola, media impresa, artigianato, quindi in azioni di categoria ufficiali hanno un progetto e una bontà di idee che permettono di restare solidi e di poter continuare a lavorare nel corso degli anni senza avere delle contrazioni. Ci sono comunque delle categorie che secondo voi soffrono? I dati sono spalmati su tutte le categorie che sono chiaramente accomunate in unioni che raccolgono per affinità diversi tipi di partite IVA, quindi in sostanza tutte le aziende chiaramente hanno una contrazione, salvo quelle che hanno una spiccata visuale di natura moderna, quindi più scientifica, qui al passo coi tempi, quindi collegata all'informatica, alla tecnologia. A Monfalcone sarà ulteriormente abbassata la quota di studenti stranieri ammessa nelle classi, il Comune ha inserito nel nuovo piano di dimensionamento da presentare alla Regione il tetto del 40%, proponendo inoltre la creazione delle cosiddette classi ponte per aiutare i bambini non italofoni. Vediamo. Abbassare il tetto di studenti stranieri nelle classi dall'attuale controverso 45 al 40% è ricorrere a classi ponte per aiutare i bambini non italofoni a inserirsi. Il Comune di Monfalcone guarda il futuro delle scuole cittadine tenendo conto del fattore demografico a fronte della quota del 22% di presenze straniere nella popolazione cittadina. Così nel piano di dimensionamento che sarà presentato alla Regione entro il 30 settembre sono fatte specifiche proposte che tengono conto dell'evoluzione demografica per la città dei cantieri. Fotografano innanzitutto quella che è la situazione aggiornata all'anno scolastico che sta per iniziare. Dobbiamo tener conto sicuramente dell'aspetto demografico che in prospettiva negli anni prossimi potrebbe interessare anche le scuole elementari, non soltanto quelle dell'infanzia come ci siamo trovati ad affrontare in questo periodo ed è chiaro che l'incremento delle nascite dei bambini stranieri è un aspetto che va valutato. Quell'accordo territoriale che è stato siglato dal sindaco di Monfalcone e dai due dirigenti scolastici della città tendenzialmente già prevede in sé quello che è l'obiettivo per il prossimo anno, cioè quello di abbassare al 40% questa percentuale. E adesso torniamo alla pagina sportiva che apriamo subito con una buona notizia che arriva dalla Basilicata dove l'Under 16 nel torneo di Matera ha iniziato con il piede giusto e grazie ad un gol di Pinzi, figlio d'arte, figlio di Giampiero Pinzi, ha vinto 1-0 contro l'Ellas Verone, quindi in bocca al lupo all'Under 16 per il proseguo del torneo importante peraltro con la partecipazione delle squadre più forti a livello di settore giovanile del nostro paese. E parliamo invece adesso dell'Udinese che dopo la sconfitta a Firenze oggi è tornata a lavorare in mattinata con la solita seduta di scarico, poi squadra a riposo quest'oggi nel pomeriggio e tutto domani, si tornerà a lavorare mercoledì pensando già alla prossima partita in casa contro il Torino, di mezzo ci sarà una gara amichevole venerdì contro il Seilie, gara che trasmetteremo in diretta a partire dalle ore 17 sulla nostra rete, ma sentiamo il servizio di Jacopo Romeo, il punto sulla formazione bianconera. Il tabù del Franchi resta tale, il primo K.O. di Velasquez in Serie A cade in un campo maledetto come quello di Firenze dove la sconfitta matura nell'unica disattenzione di una squadra messa bene in campo che meritava di portare a casa al pari. L'equilibrio rotto da Benassi a un quarto d'ora dal termine non spegne l'idea che la formazione friulana darà fastidio a molte compagini lungo il suo campionato e l'obiettivo sarà proprio quello di riprendere il cammino dal duello interno al Torino del prossimo 16 settembre. Durante il break per gli impegni internazionali Velasquez perderà otto elementi della prima squadra. Tre chiamate arrivano da Di Biagio per l'Under 21 Azzurra con Mandragora, Pezzella e Scuffette. Più e Kong, Macisso, Pocus, Trüger e Vaguea a completare il quadro dei prescelti dai commissari tecnici. Il resto della rosa friulana resterà al lavoro sui campi del Bruseschi. Dopo lo scarico del lunedì mattina con un gruppo ristretto sul campo e i titolari di Firenze in palestra la squadra osserverà il tradizionale riposo del martedì prima di tornare a sudare da mercoledì. Nel weekend Velasquez manterrà vivo il ritmo partita disputando la tradizionale amichevole della sosta, preziosa per saggiare in particolare il recupero di Andria Balic, già al lavoro con i compagni nella scorsa settimana e pronto per il definitivo reintegro in gruppo, in una mediana che ritroverà scelte dopo la squalifica scontata da Mandragora, permettendo al tecnico spagnolo di valutare tutte le possibili soluzioni tattiche. E proprio di Mandragora ha parlato il commissario tecnico della Nazionale Under 21 che ha tenuto una conferenza stampa in vista dei prossimi impegni degli azzurrini. Sentiamo. Il ragazzo sicuramente doveva gestire in maniera diversa quello che è accaduto perché tra l'altro è il capitano della Nazionale Under 21 e non è il massimo per dare un esempio ai ragazzi per quello che ha fatto. Poi se vogliamo dirla tutta non ha fatto niente di male perché non era indirizzato a nessuno né arbitri né compagni né avversari, però non è il massimo perché io se immaginare se qualche ragazzo bestemmia in allenamento l'ho multo, quindi immaginare cosa penso su questo argomento. Però da qui a pensare e ho letto che è stata una punizione il fatto dell'Under 21. Non è così, mi sono confrontato con Roberto, abbiamo fatto il punto della situazione non su Mandragora ma su tutti i ragazzi che erano borderline tra Nazionale e Under 21 e si è deciso insieme sul fatto che Rolli facesse parte del nostro gruppo. Basta, stop. Speriamo davvero che sia messa la parola fine a questa vicenda e che Mandragora ovviamente faccia questo suo percorso con la Nazionale Under 21 in questa pausa internazionale e poi torni rinfrancato e motivato per quanto riguarda l'Udinese o per scontato una squalifica sulla quale si è parlato tantissimo. Vediamo adesso la rubrica di Guido Gomirato accadde oggi, che ha fatto il suo esordio oggi, la rubrica, nei nostri telegiornali. Il 3 settembre del 1928 nasce a Fossalta di Piave Antonio Ping che va ricordato come uno dei più bravi portieri dell'Udinese calcio. Ping comincia a giocare nelle giovanili del Sandonà, poi passa al Fossalta e fa un ulteriore salto di qualità nel 1947 giocando in Serie nella Luparense, poi passa alla Mestrina e nel 1952 su consiglio dell'allora allenatore Guido Testolina viene acquistato dall'Udinese. In bianco nero dovrebbe essere il vice di Elio Angelini ma da subito si mette in evidenza per parate importanti. È un estremo difensore molto reattivo, forte tra i pali, anche coraggioso e il 19 ottobre del 1952 nella trasferta di Torino contro la Juventus dà dimostrazione del suo coraggio, tant'è che si infortuna in maniera abbastanza seria e deve lasciare il posto tra i pali al debuttante Terzino Morelli. Nell'Udinese disputa 31 partite, poi nel 1953 la società bianconera si vede costretta a cederlo alla Sampdoria dove Ping rimane tre stagioni sino al 1957 disputando 97 incontri. Poi l'estremo difensore Veneto fa un ulteriore significativo salto di qualità nelle fila del Padova di Nero Rocco e nel 1957-58 conquista uno storico terzo posto. Rimane a Padova sino alla stagione 61-62, poi disputa altre due stagioni con il Vicenza. Complessivamente vanta 321 presenze nella massima categoria. Poi inizia la carriera di allenatore nel Vicenza, nel Padova, nel Abano, nel Dolo, nel Caorle e carriera che però chiude anzitempo per un problema di salute. Muore a 83 anni. E dal passato, cioè dalla storia, passiamo al futuro. Perché futuro? Perché vi facciamo vedere i titoli di alcune pagine di quotidiani che troverete soltanto però domani nelle edicole. Partiamo dal foglio quotidiano che sotto la testata titola Un dramma, l'opposizione regalata allo spread perché un paese che trasforma il termometro nella cura di un virus rischia di essere fottuto. Poi al centro, in rosso, la televisione e la mamma del populismo. Andiamo avanti e leggiamo anche altre pagine. Quella del giornale che titola Addio pace fiscale. Altro che meno tasse, i grillini boicottano il piano di condono dei contenziosi. Salvini sbaglia e Fico conquista il partito democratico. Questa è la prima pagina del giornale. Andiamo sul libero prima di chiudere. Tutte le porcate che mangiamo nei nostri ristoranti. Ed è un titolo che parte da un'inchiesta che è stata effettuata dai carabinieri e da un rapporto che Libero pubblica delle pagine del suo giornale. Ravvisate anomalie nel cibo e scarse igiene nel 40% circa degli esercizi controllati nel 2017. Attenzione ai locali etnici. Ed è tutto. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento con UD News TV. Appuntamento domani alle 7 con la Rassegna Stampa.